Per i curiosi e gli amanti della buona tavola, l'appuntamento è al ristorante Belfiore di Salzano, dove ha luogo una serata enogastronomica finalizzata alla valorizzazione del radicchio di Treviso. Proloco e amministratori locali hanno collaborato per la realizzazione dell'evento. Siamo al ristorante Belfiore di Salzano per il quarto appuntamento con il percorso e il circuito enogastronomico basato sulla promozione del radicchio. Questa sera una delle specialità di Salzano, ma soprattutto di questo ristorante, sarà il masaro, che lo degusteremo insieme a questo prodotto tipico della zona, che è il radicchio tardivo di IGP di Treviso. Regina della serata è la cucina della terra veneta, a cui si rende onore con uno dei piatti forti della casa, il masaro germano reale da cortivo. L'impegno delle Proloco anche nell'ambito della valorizzazione dei prodotti locali e anche degli ambienti del proprio territorio mi sembra una cosa molto significativa e anche di grande interesse e sostegno del territorio. Questa serata che valorizzano a parte alcuni prodotti e anche ambienti e che apre anche i cittadini, ritengo che sia una serata molto bella, molto gradevole anche per il piano della collaborazione fra le diverse Proloco del milanese, del decumano. Grazie a tutti.